E che durante, dentro al patriarcato, la donna diventa invisibile, ma è lei che regge tutto, il suo lavoro non retribuito, il suo lavoro di cura, il suo lavoro di rimettere tutti quelli che sono parte della sua famiglia, del suo gruppo, in grado di ricominciare il giorno dopo. Questo è il lavoro invisibile delle donne. Ora le donne però devono anche rendersi conto che non possono alimentare un progetto che sta distruggendo la vita intera di questo pianeta, non solo la vita delle donne. Da sole nessuna di noi arriva da nessuna parte. Si tratta proprio di ritessere con infinita pazienza e con infinito amore quella rete di relazioni tra donne che ha retto per migliaia e migliaia di anni le cività pacifiche della Terra. Con la rottura di queste relazioni, una rottura forzata, il mondo è andato nella direzione distruttiva di cui adesso si stanno manifestando e rendendo visibili un po' a tutti gli effetti.